Siamo alla musica, i Baskers stanno suonando in questo momento in centro, è una rassegna il festival che anche quest'anno collabora fortemente con ERA che garantisce il servizio di pulizia oltre che decine di isole dove differenziare i rifiuti, ma garantisce anche una sorgente d'acqua disponibile per tutti, ovviamente plastic free. ERA è presente alla 32esima edizione di Ferrara Basket Festival e siamo molto contenti di esserci, questa è una manifestazione particolarmente attenta all'ambiente, noi del resto siamo presenti e contribuiamo a oltre 250 eventi all'anno nel territorio che noi serviamo, a questa siamo particolarmente affezionati, la seguiamo da tempo e dedichiamo una cura particolare alla raccolta differenziata, abbiamo collocato circa 50 postazioni con tutti i bidoni per consentire a tutti, sia a cittadini ferraresi che a chi partecipa a questa manifestazione di fare la raccolta differenziata al meglio, in molte di queste ci sono anche degli ecoassistenti che sono lì pronti per dare tutte le migliori informazioni e qua in piazza Trento Trieste, accanto alla sorgente urbana che consente a tutti di dissetarsi di acqua fresca sia liscia che frizzante, quindi senza fare uso di bottiglie in plastica, abbiamo anche un interiore punto informativo, un gazebo dalle 19 alle 23. Tutte queste iniziative, assieme ad altre che meritoriamente gli organizzatori hanno adottato, quale ad esempio la scelta di distribuire e far utilizzare bicchieri in plastica riutilizzabile, fanno di Ferrara Basket Festival una vera e propria ecofeesta. Ferrara mette a disposizione dei cittadini notevoli servizi di pulizia e potenziamento di questi servizi, perché è chiaro che un afflusso di 400.000 persone nell'arco di tutta la manifestazione, voi capite che c'è la necessità di impegnare molte più persone e molti più turni di lavoro. Iniziamo con delle attività di pulizia preventiva, prima dalla manifestazione, continuiamo durante l'evento perché abbiamo delle persone sempre pronte a intervenire in caso di necessità e quando termina ad ogni serata la manifestazione interveniamo in forza per rendere la città vivibile il mattino successivo. Un aspetto molto importante che potrebbe essere replicato anche in altre manifestazioni è la presenza di questi ecoassistenti che sono a presidio delle isole ecologiche di base che abbiamo realizzato in tutta l'area della manifestazione. Gli assistenti indirizzano correttamente i cittadini qualora abbiano dei dubbi nelle modalità di conferimento. Con questa nuova attività abbiamo ottenuto dei risultati molto importanti in termini di qualità della raccolta differenziata e anche di quantità. I rifiuti anziché essere a terra sono già dentro i contenitori prontamente recuperabili e avviabili alle fasi successive di riciclo.